ZOMBIE APOCALYPSE Eh, vai, andiamo a lavorire, vai, tocan down Vada Io levo le cuffie, avviso Vai 3 2 1 Vai cazzo E' partito E' partito agli undici Germania, DC Germania, DC Non ci credi Germania e DC G G G G G Mi dispiace G Questo è buono ctc Vedo com'è bello, 73 di velocità Ginter Ginter E' uscito Ginter 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 Sperabbiamo cari tutti gli altri 86 Non perchè... manca tutti i trasferimenti fai comunque i soldi pensa positivo guarda qua Horn, Fernandez, Ginter e poi Belibba, Lodelli, Morreal Muriel, Thomas c'è sempre c'è 3,86 manda tutti i trasferimenti vai andiamo i trasferimenti 2,1 via apri ti prego voglio dopo questo pack altri 15 tiff quindi non scappate che andiamo subito ad aprircele vai vediamo chi è urla Emilia questo l'ha detto questo l'ha detto della Sard ho spaccato pure il telefono io non ci credo io non ci credo che questo l'ha detto questo l'ha detto ma io c'ho paura di questo uomo io c'ho paura come ti chiami su facebook? io non ci credo dragon dragon mo ti devo far leggere i chat di Ribera mo ti ha già fa leggere mo in questo momento ti ha già fa leggere in questo momento hai rotto i coglioni che fa sempre scolare te dragon devi far scolare un po' a me perché io sono il migliore sono il più buono qua in mezzo e tu vai scolare gli altri guarda qua non sputtanatemi va bene mi state sfidando guarda Ribera guarda 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 Ribera Ribera ti butta merda addosso e tu continui a far scolare basta devi far scolare un po' a me che cazzo e tra l'altro da sotto ci può stare anche a Ghero non ha mangiato veloce ma va fa culo vuoi mangiare c'è la Sard vuoi mangiare vuoi mangiare mi sta chiamando Sasayu pronto Sasayu sei live ci sta già ci sta cosa grazie orn da sotto Fekir pure sculone non c'è a Ghero si è aperto da solo orn Fekir Ginter vabbè la fangu vedi che sculone vedi che sculone guarda questo guarda sculone guarda tutti i peli c'è la cosa c'è la Sard questo vale un milione e mezzo un milione e mezzo 1450 quanto? 1 e 4 1 e 4 1 3 e 50 grazie a tutti i